Cosa pensi? Io penso che comandino i sondaggi, nel senso che questo è un governo mediatico, quindi ogni giorno ce n'è una in un senso o nell'altro, viene misurato il numero di like, viene misurato l'effetto sull'opinione pubblica e in base a quello la polemica dura due ore o due giorni o due settimane, anche perché poi di concreto, a parte le due cose che avevano stabilito di fare all'inizio, purtroppo, reddito di cittadinanza e quota 100, sul resto non hanno fatto nulla, se però ce la fare un passo in più direi che comanda Mattarella, nel senso non che Mattarella è responsabile di quello che sta succedendo, ma quantomeno impedisce che succeda di peggio, perché a peggio c'è sempre limite e quindi comandano i sondaggi e Mattarella.